Buonasera, due sentenze pronunciate da due diverse corti ai due estremi del Paese ci impongono una riflessione sulla giustizia. I magistrati di Palermo hanno spazzato via le fantasiosi ricostruzioni sui rapporti tra mafia e politica nel periodo buio delle stragi. Hanno ritenuto incredibili le rivelazioni del pentito Spatuzza che per anni, pagato dallo Stato, con le sue dichiarazioni, ha avvelenato la vita pubblica e la reputazione di tante persone per bene. Nonostante questo, gli stessi giudici hanno trovato il modo di condannare il senatore Dell'Utri a sette anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, un reato molto discusso e francamente molto discutibile. E allora ci viene un dubbio, non è che chi è vicino a Berlusconi alla fine qualcosa debba pagare? Nelle stesse ore, in un'altra aula di giustizia, un magistrato dichiarava non punibile Massimo Tartaglia, l'uomo che attentò al premier Berlusconi colpendolo con una statuetta durante un comizio. Per lui nessuna detenzione, solo libertà vigilata e dimora in una comunità dove possa curarsi. Ora è chiaro che nessuno vuole vedere un incapace in cella, ma ci viene un secondo dubbio, non è che chi si accanisce contro Berlusconi alla fine non paga mai? Berlusconi alla fine non paga mai?